Più passano i giorni, più aumentano le possibilità che il Consiglio federale non accolga in toto le decisioni sollecitate dalla Lega Pro nell'Assemblea di giovedì scorso su tutte la sospensione definitiva del campionato. Gabriele Gravina non ha ancora fatto del tutto sua l'idea che il campionato di Serie C sia finito optando per una linea che riguarda tutti i tornei professionistici, accertare l'esistenza delle possibilità di andare avanti, non staccare la spina e arrivare fino in fondo. È probabile dunque che la prossima settimana nel Consiglio federale, sempre più dominus in sede di definizione di classifiche e organizzazione dei campionati futuri anche in base a una norma del decreto rilancio, si intervenga solo su tutti i campionati dilettantistici che saranno fermati definitivamente. L'interruzione come primo problema al quale sommare il principio con cui stilare le classifiche nell'eventualità delle bocce definitivamente ferme, quindi quello scelto dalla Lega Pro sulla media punti partita sarà oggetto di discussione. In ogni caso saranno scelti criteri identici per tutti i campionati, il tutto mentre un gruppo di squadre preme perché si seguano le indicazioni dell'Uefa e della FIGC, ossia di completare i campionati anche con playoff ridotti. Una richiesta alla quale sono pronte a rispondere Bari e Monopoli, ma anche Reggio Audace, Novara, Carrarese, Pontedera, Sud Tirol, Padova e Ternana, convinte che il merito sportivo non possa premiare chi ha giocato meno gare di tutti, come accadrebbe invece con il Carpi, terzo nel girone B. Ultimo ma non ultimo punto da affrontare è quello del blocco delle retrocessioni, richiesta esplicita della Lega Pro in assemblea che rimbalza però sul sistema. Su questo il no di gravena sembrerebbe categorico.